ragazzi ragazzi stasera il convento da favola stasera il convento da favola eccolo qua arrivami col cavallo arrivami col cavallo attenzione sta arrivando fai galop galop un cavallo un cavallo un cavallo un cavallo vai galoppa 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 ecco guardate guarda ecco è più galoppante fantastico fantastico eccolo qua abbiamo il principe azzurro una cosa una cosa fantastica subito la ragazza ha visto il principe azzurro dei suoi sogni hai visto che roba una cosa bellissimo è quello che hai sempre sognato te signore e signori questa ragazza mi ha appena spiegato che si è materializzato il principe azzurro dei suoi sogni una cosa incredibile ragazza fa grazie grazie allora hai visto è dura essere il principe azzurro dei sogni di tutte le ragazze abbastanza vantaggioso vantaggioso questo questo ha trovato il vantaggio in questa cosa allora ma chi è stato il fautore di questo abito gli amici ma gli amici amici ma c'è un motivo te l'hanno spiegato è perché mi voglio far fare una figura di una bella figura una bella figura perfetto eccolo qua signori però ci stanno riuscendo abbastanza sì sì anche il tuo modo di cavalcare mi è sembrato molto allora fai fammi allora io alla prossima ragazza che passa fiomberei col cavallo cavalcante la cosa appena appena ne troviamo una appena aspetta che una cavalla a proprio così perfetto come ti chiami tanto marco e da dove vieni bari a cavallo grazie da bari che cavalca questo è da bari che cavalca adesso un po stanco infatti ci vorrei che una ragazza che lo stanno anche lui ha bisogno di riposo si è staccato si è staccato un cavallo un cavate si è staccato un cavate ecco perfetto lei come si chiama la tua futura sposa lucia lucia lei sa il corrente di questo no del cavallo no allora ti ricordo che il video verrà trasmesso sul sito del convento quindi potrai ragazzi lo trasmettiamo sono i bravi questi sono i bravi attenzione ecco la moneta la moneta per il principe quindi quindi le farai vedere le farai vedere che cosa che cosa hai fatto qua al nord ecco il principe azzurro del nord non le farò andare su internet che si lo vedete dai che gli amici spenceranno loro a fornire il materiale grazie è la tua prima volta allora qua da noi no no sto già venuto a tre volte quindi sai cosa ti aspetta si 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 allora io direi di salutare la tua futura moglie a dire di non preoccuparsi non siano di preoccupare guarda sto benissimo sto benissimo sto benissimo anche il buca va bene ciao ragazzi ciao ciao salutiamo salutiamo vabbò no u